Facciamo questo resoconto del mese di luglio Ecco Quindi come ti sembrava l'estate, finora? Eh? Sono io su Ero ora non mi soffamo Maralab, che vuoi? Ma che vuoi? Vuole fare sempre la produzione? Maralab, come procedi? Mi è che l'ho trovata molto molto bene E ritornerò Sì, ritorno sempre volentieri E come dire? Complimentoni Complimentoni Sono con la mia amica, la Genji La Genji? Che dice Genji? Che un po' è paranoia Come mai? Non lo so, è proprio il suo carattere E tu invece? Come sei? Solaro? Logorroica E quei fastidiosi, i problemi come vanno? Sono già passati, grazie a una crema Irudoide 40.000 Ma ce la consiglio Allora ragazzi Tu fai scherudoide Pruriti anali Grazie, alla prossima Pruriti anali